mesi anni una settina 7 8 mesi piccoletto come mangio dottore? mangia veloce? eh sì perché è sotto peso molto denutrito un po' di cerume sono pulite sembra che è a posto dal punto di vista clinico al di me riesco a fare un controllo noi non gli abbiamo toccato le orecchie perché avevamo paura di al di me no no sono sporcizio niente di che non ha tolavoro normalissimo justamente è venuto fuori ce n'era è una meraviglia no? è un po' che lascia un lupo che ora l'abbiamo chiamato lupo va ripreso va ripreso un pochino e come sta? no mi fa provare le orecchie non è convintissimo ma e lo sta? dov'è? riesci a metterlo solo sull'amore? eh di più no la dico per tira eh eh 10 10 mili precisi sì una sfera ok no lo credo sì ok 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 ok